Un'altra bella figura di merda dei campionati del mondo, il Belgio perde contro il Marocco 2-0 e rimane a 3 punti, il Marocco va a 4 punti. Il Belgio, come negli europei, noi come Italia l'abbiamo battuta, si è dimostrata la squadra comunque va da mediocre, ma veramente mediocre. Perdere contro il Marocco è stato veramente pesante, adesso vedremo stasera come reagirà il Canada e vedremo un po' quello che sarà il processo e il proseguimento di questa squadra che per me il Belgio quest'anno ha veramente deluso. Complimenti al Marocco che sicuramente è un'ottima squadra e io ero già all'epoca che quest'anno il mondiale sarà un mondiale di cui le squadre africane avranno il suo dire e questo si sta confermando. Alla prossima, fino alla fine, Forza Juve!